Vi dico solo una cosa Roba bella E oggi è roba bella amici miei Oggi è roba bella ve lo dico, ve lo dico è roba bella Sono i libri questi del mese Tutti questi ma poi belli Oggi sono veramente belli Quindi iniziamo, dai iniziamo un po' a vederli insieme Perché roba bella, l'ho già detto, mi sembra Allora, il primo, il primo Il primo è Ilary Putnam, Putnam, Etica senza ontologia Amici miei, è bellissimo La cosa strana qual è? Che di Putnam non si trovano facilmente i libri in commercio Voi direte ma strano, vero? Soprattutto non si trova questo qui Mentre trovate gli altri libri suoi Che parlano soprattutto della filosofia del linguaggio In relazione alla conoscenza Editi da Delphi Questo qua, in cui Putnam parla di etica E in cui soprattutto c'è un primo capitolo Perciò l'ho comprato Che è questo, Etica senza metafisica In cui lui le dà di brutto a Martin Heidegg Sull'etica, sull'ontologia Questo qua non lo trovate Edito da Mondadori Bruno Mondadori Io credo neanche da tantissimo Perché no, infatti Questo qua è del 2005, come pensate Ed è uscito in inglese nel 2004 Etics Without Ontology Eppure, nonostante sia edito dal 2005 Niente, non lo trovate E quindi, come al solito, l'ho comprato su eBay usato Però, grande testo E ve l'ho detto che era roba bella Questo è il primo bello Secondo, si continua con Calvino Come leggere il sentiero dei nidi di ragno Di Italo Calvino Di Anna Lisa Ponti E questa è una collana agile Sciolta della Murzia In cui si riflette sul sentiero dei nidi di ragno Che è il primo romanzo di Calvino Il romanzo cosiddetto neorealista A volte di questo periodo appunto Di Calvino neorealista In cui Calvino riflette anche sulla guerra Sulla vita da partigiano, eccetera E qua si analizzano l'opera, le strutture narrative Si analizza la critica anche che è stato fatto al testo Quindi anche questo molto bellino, piccino Guardate, bello, bello, bello Questo si trova, invece, questo si trova Poi, questo era un libro che io volevo compare da tantissimo tempo Helmut Plesner I gradi dell'organico e l'uomo Plesner è uno degli autori di riferimento Dell'antropologia filosofica Che è questa branca che cerca in un certo senso di, diciamo, riflettere sulla condizione umana In senso antropologico, in modo filosofico Quindi il rapporto all'ambiente, il rapporto alla tecnica, il rapporto agli altri animali, eccetera Si può dire che anche, per esempio, Anders sia un autore di antropologia filosofica Però Plesner è sicuramente il filosofo dell'antropologia filosofica Che tra l'altro ha scritto un altro libricino che proprio parla di antropologia filosofica Mentre in questo gradi dell'organico dell'uomo Che ha come sottotitolo introduzione all'antropologia filosofica Plesner va a, diciamo, a buttarsi, a lanciarsi in una trattazione Che cerca di riassegnare, ricollocare l'uomo nelle gerarchie vegetali-animali Quindi è molto bello, molto interessante È fondamentale È uno dei testi, una delle mie racune, questa la considero Che rimederò a breve Poi, infanzia bellinese di Walter Benjamin Ora, Benjamin è un autore che non conosco molto C'è da dire questo Però, però, però Io sono rimasto affascinato dalla sua figura Leggendo il Tempo degli Stegoni di Hagenberger In cui Hagenberger ci racconta delle vite di Benjamin Di Heidegger, di Cassire e di Wittgenstein Lo trovate in un precedente unboxing E in Italia è edito da Feltrinelli E quindi ho voluto comprare Infanzia Bellinese Perché è una sorta di autobiografia Che fa Benjamin di un periodo difficile nella sua vita Abbastanza anomala Ed è un libro scritto, edito da Leinaudi È da Leinaudi Scritto molto agile In modo molto moderno Perché Benjamin è un autore anche dal tipo di scrittura contemporanea moderna Quindi molto piacevole da leggere sicuramente Ora, iniziamo poi con la mia scoperta del mese Ogni tanto io ce l'ho, queste scoperte Autori importantissimi che io non conoscevo E quindi mi lancio a recuperare i libri E questo è veramente importante come autore, signori miei Si parla di Giorgio Cosmacini Giorgio Cosmacini è un medico italiano, anche filosofo Quindi siamo accomunati in questo doppio passaporto Io sono farmacista, filosofo Lui è medico, filosofo E Cosmacini insegna storia della sanità all'Università dei Sud di Milano E storia della medicina all'Università Vita Salute San Raffaele E questo è uno dei suoi libri più belli Il mestiere del medico, che ho già letto Grandissimo testo Poi Cosmacini è una scrittura avvolgente Una scrittura veramente accattivante In cui si parla della figura del medico Dall'antico Egitto fino ad oggi E ovviamente questo tema è connesso al tema di filosofia della cura e della salute Dal sunu egizio, così viene chiamato in medico Allo iatros, ipocratico, fino al medico contemporaneo E uno dei libri di storia della medicina Che io imporrei come obbligatorio nell'Università Ovviamente fuori commercio in Italia Nonostante sia della Raffaello Cortina Nonostante gli altri libri di Cosmacini si trovino quasi tutti Questo qua no, non si trova E quindi ho provveduto a comprarlo anche stavolta usato E poi Gadamer Maestri e compagni sul cammino del pensiero E anche questo è un libro, forse non lo conoscete Questo libro di Gadamer, della Queriniana In cui Gadamer racconta il suo rapporto con i vari maestri Appunto di vita e di pensiero Paul Nathorp, ovviamente Heidegger Che è nella prima parte Ricordi Marburghesi Ovviamente, e anche nell'ultima Dedicato specifico a Heidegger Carl Jaspers, Heidelberg eccetera Cioè lui va a riflettere la sua vita Una sorta di autobiografia in cui Parla del rapporto con i maestri Gadamer ha una prosa poi molto bella Anche lui si legge molto molto bene Quindi sicuramente sarà un bel libro Poi questo è un libro della Clean Amen Editrice di Camilla Pieri Essere nel tempo Studio su Heidegger Che mi dicono essere un bellissimo studio su Heidegger Fatto molto bene E la Clean Amen Editrice è la stessa casa editrice Dei mie saggi logico-fenomenologici Una casa editrice di Firenze Camilla Pieri è una dottorata Un dottore di ricerca in filosofia Ha studiato Heidegger eccetera E riflette proprio a tutto tondo Mi sembra di aver letto Sulla filosofia di Heidegger Questo è un libro che userò per consultazione E questo è veramente un altro grande libro Questo veramente, guardate, ve lo consiglio vivamente Si chiama Scienza senza maiuscola Di Danielea Ovadi e Fabio Turone Questo è un libro che ho già studiato È un libro scritto da Ovadi e Turone Che sono due, per me, due fenomeni Assolutamente due fenomeni Io quando leggo questi libri Mi viene voglia di smettere e scrivere Di dire, va, basta, smetto Non scrivo più nulla Perché in effetti sono due giornalisti scientifici Due divulgatori scientifici Daniele Ovadia Insegna anche etica della sperimentazione Nelle università Ed è un libro questo meraviglioso In cui si va a ogni capitolo A riflettere su uno dei valori Dell'etica della ricerca L'etica della sperimentazione Guardate, mi è rimasto il pleddino Da nonno, da vecchio dietro Non l'ho tolto per il video Questo è il pledd che mi metto Quando studio Questo tante ore chiuso nello studio Questo è della codice edizione La codice edizione è di Torino Anche questa casetice Io l'ho scoperta Non la conoscevo Avevo messo nel carrello Amazon qualcosa Però è veramente un grande testo Veramente un grande testo Se siete interessati a sapere qualcosa di più Sulla scienza Sul suo funzionamento Sulla criticità Io ve lo consiglio Scienza senza maiuscola E poi Thomas Hager Anche questo della codice edizione Homo Pharmacus Questo è bellissimo I dieci farmaci che hanno scritto La storia della medicina Non c'è bisogno che vi aggiunga nient'altro Perché si va appunto a parlare Degli antidolorifici Degli analgesici Della penicillina Tutti quei farmaci Che hanno scritto appunto La storia della medicina E la cosa è bella Che come scritto in quarta di copertina Thomas Hager dice La cosa curiosa Voi pensate che Il 95% delle piante Al mondo Non sono commestibili In questo 5% Commestibile I nostri antenati Sono riusciti a tirar fuori I farmaci medicinali Sostanzialmente Le piante medicinali E a me interessa È un dubbio avesto Di farmacista e filosofo Un libro per me Veramente importante Sempre Codice edizioni Questa casa edizioni Che per me È eccezionale Anche per come realizza i libri Per le copertine Ve l'ho detto Giorgio Cosmacini La mia scoperta del mese Questo è un libro Già letto Già consultato I concetti di salute e malattia Fino al tempo Del coronavirus Manoscritti medico-filosofici Per longevi Di oggi e domani Se non erro Anche questo l'ho comprato Non sui canali ufficiali Perché non si trova Però è molto importante Perché Ti dà una panoramica Dei concetti Di salute e malattia E quant'altro Quindi c'è un capitolo Ontologia e fenomenologia Della salute e la malattia E Cosmacini Ripeto È veramente un fenomeno Mi viene voglia Di smettere e scrivere Quando leggo questi Lo dico e lo ripeto Ma sono contento Poi c'è questo Un po' più specialistico Il codice deontologico commentato Questo mi serve Perché sono stato invitato A un congresso nazionale A parlare di deontologia E quindi voglio Vedere anche Cosa hanno detto I commentatori Del codice deontologico Che credo sia un testo Questo interessante Si parla di deontologia medica Ovviamente medica Interessante Che credo sia Appunto Un testo studiato Nelle facoltà Di medicina legale Sostanzialmente Però molto bello E poi questo I guaritori Di Piero Cassoli Amici miei I guaritori I guaritori Voi pensate Quelli che mettono Le mani E guariscono E quindi siamo Nell'ambito Extramedico Extrascientifico Nella parascienza O paramedicina Perché ho comprato Questo libro Dell'Armenia Editore Pensate L'Armenia L'uomo L'ignoto Si chiama La collana L'ho comprato Perché l'esperienza Dei guaritori Era una delle esperienze Fondamentali Del medico antico Il medico antico Spesso era anche Un guaritore E quindi ho detto Ma visto che ho trovato Questo riferimento Bibliografico Proprio in Cosmacini Perché io vado sempre A vedere la bibliografia La cosa che mi appassiona Di più La bibliografia Perciò compro sempre Più libri Ovviamente Ho detto Fammi prendere Questo libro Piero Casso E i guaritori Se lo cita Cosmacini Vuol dire che Ne vale la pena E non vedo l'ora Di leggere anche questo Ovviamente Non si trova in commercio E l'ho dovuto Prendere usato E si vede Perché ha anche La copertina fantastica Vedete qua Tutta righettata Di nuovo il nostro Giorgio Medicina e rivoluzione In cui racconta Della rivoluzione francese E degli anni In cui la medicina Quindi è cambiata Radicalmente E l'arte lunga La storia Della medicina Dall'antichità Ad oggi Tutte e due Questi libri Li trovate Sui canali ufficiali Raffaello Cortina Editore E la terza Editore Questa storia Della medicina E' veramente bella Anche questa Un po' l'ho consultata Lo devo fare In modo più approfondito Ricalca alcune cose Già dette Nel mestiere del medico Nella storia del medico Ovviamente Però è veramente bello Cosmacini Ripeto un grande Poi Calvino Di Mario Barenghi Profilo di Storia letteraria In cui Questo Mario Barenghi Va Che questo Poretto Insegna letteratura italiana A Milano Alla Bicocca Quindi questo Va a riflettere Su Calvino A raccontarci Soprattutto Il calvino letterario Unito al calvino biografico Quindi è uno di quei testi Molto belli Anche per la struttura Molto didattica Molto accademica Fa parte degli itinerari Della Mulino Che sono notoriamente Manuali Più pensati Per l'accademia Però molto interessante Anche perché Molto sintetico Poi questa è bella La biografia Di Wittgenstein Di Ray Monk Che è il Forse il più importante Biografo di Wittgenstein Wittgenstein Ha avuto una vita Fantastica Ha avuto una vita strana Era miliardario Voi pensate Era un miliardario Wittgenstein E ha lasciato tutto il patrimonio I fratelli Quando è andato A studiare a Cambridge E è tornato a Cambridge Dopo essersi arorato Nella prima guerra mondiale È andato sul fronte In prima linea Era un matto Un matto come un cavallo È tornato a Cambridge Da Russell E ha chiesto Che gli venissero dato Qualche soldo Perché non ce l'aveva E Russell gli disse Ma scusa Chiedilo in famiglia Anche Russell era benestante Ha detto Chiedilo alla tua sorella Tu fratella Niente Non gliela volete chiedere Era un matto Come un cavallo Voi pensate Che ha insegnato Nelle elementari È andata a vivere Per un periodo In una sorta di Utte degli eriani Una baita Costruita da solo E quindi ho detto Ma è arrivato il momento Che purtroppo Ancora non è Perché non avrò tempo Di leggerlo Questo librone Su Wittgenstein Ora Ora come ora Però è arrivato il momento Di comprarsi questa biografia Di Ray Monk Che ovviamente Edita da Bonpiani Parliamo di Wittgenstein Uno dei più grandi filosofi Anche conosciuti E tra quelli contemporanei Uno dei più conosciuti Del novecento Non si trova In commercio E ragazzi Anche questa non si trova Allora ho dovuto Come al solito Comprarla Usata Poi due libri Di Thomas Bernard Che io non conosco Ma so essere Un fuoriclasse Della letteratura Non a caso Edito da Delphi Due libri Che sono Antichi maestri E il soccombente In cui Bernard Tra il filosofico E letterario Con il suo stile Precipo Ci parla Indovinati di chi Soprattutto di Musicisti Soprattutto di musica Soprattutto in questo Il soccombente Ci parla di Glyn Gould E del rapporto Con i musicisti Del suo tempo Io l'ho preso Perché? Perché Gould È un musicista Che adoro Io Naturalmente adoro E adoro La sua esecuzione Di Bach Soprattutto delle variazioni Goldberg Che lui ha reso celebri Era fuori come un cavallo Era un fuoriposto Anche a Glyn Gould Un atto opposto Un bizzarro Un occidente Un inusuale Un straordinario Allora ho detto Fammi leggere Questa robetta Di Bernard In cui ne parla È veramente bello Edizione ad Elfi Che vedevo di Edizione ad Elfi Sono clamorose Come sempre E poi abbiamo Il mio amico Questo è il mio amico Kierkegaard Kierkegaard Opere complete Le grandi opere Filosofiche E teologiche Questo è Un testo Immenso Un testo Costosissimo Perché se non erro Costa sui 65 euro Questa roba Tradotto Da Cornelio Fabro Che quindi È forse I più insigni Traduttore Commentatore Di Kierkegaard In Italia Con una prefazione Di Giovanni Reale In cui Si affrontano Tutte le opere Di Kierkegaard E ce ne sono Davvero di ogni Ovviamente Le opere maggiori Di Kierkegaard Li abbiamo Già Edite in Italia E si trovano Alcune però Come sempre Accade Anche Soprattutto E me Per i grandi Pensatori Alcune Non si trovano E si possono trovare Solamente Qui dentro Quindi questo È un grande Tomo Un grande libro La Bombiani Merita sempre E che vi devo dire Ci siamo Sono finiti Anche questo mese Quindi Come sempre Io vi lascio I commenti In descrizione Qua sotto Ditemi Se vi sono piaciuti I libri Cosa ne pensate Se li conoscete E ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima